Siamo qui con il signor Pietrangeli della squadra Nocciano, salve! Buonasera, buonasera! Qualche impressione sulla partita appena disputata? Siamo felici di aver portato a casa i tre punti che mancavano da un bel po' e siamo felici! Capisco, quindi continua il momento d'oro della squadra con quest'anno che state facendo un grande campionato Sì, stiamo andando oltre le aspettative e non vogliamo fermarci qui Quindi vi dichiarate contenti sia della prestazione di oggi che... Certo, certo! Abbiamo incontrato una squadra dura ma alla fine abbiamo vinto meritatamente Ok, noi la ringraziamo per questa breve intervista e le auguriamo in bocca al lupo per il proseguimento Grazie! Grazie!